La tigre del farweb che gioca a minecraft, con quel volume che c'è, Duke 4316 Ho messo delle scalette per il modo più pratico, per essere più comodo e ora tutto è funzionante Ora andrò a mettere dei tubi qua sopra, quest'oggi sono da solo come potete notare Andrò a mettere dei tubi qua sopra, che andiamo a mettere questi qua, non di corrente, ma mi servono quelli fluidi Per cui oggi andremo a fare dei tubi fluidi, i Fluidax, qua, ok Venite con me, vi faccio vedere come si fanno i tubi di Fluidax Allora, dovremmo andare a fare il colorante verde Adesso dovete passare qualcuno ragazzi, sono questi zombie che non se ne vanno Andiamo a dormire, in modo che passano qualcosa Pure zombie Ah, ho anche i bordi neri, come potete vedere, ma ora magicamente spariranno Grazie, grazie per avermelo avvisato, avermelo avvisato Ora, quando la notte passerà, logicamente Dai Peppo! Dai Peppo! Ti muovi! Ci sono anche Ma allora non era da solo! La borsetta e il marsupio, ci sono, ci sono Oh Affanculo! Eh sì Allora Che facciamo oggi? Io da oggi mi chiamo Mignolo Ti chiamo Mignolo? Sì E' Mignolo col prof! Allora, innanzitutto, che innanzitutto dobbiamo fare la Redstone Sì, fatto! Vai! Allora, la Redstone si fa con tre lingotti rossi Di Red Alloy Eingot Che si fanno con Redstone e Copper O Redstone e Ferro Usiamo il ferro che ne abbiamo di più Redstone ne abbiamo Sì, guarda qua Tantissimo Guarda qua Anzi, no, aspetta, è tala doppio Aspetta, aspetta Ho una bacchetta da me Guarda qua A parte che la Redstone ce l'abbiamo un sacco Dove abbiamo un sacco dove? Scusa, ma non l'ho scavata Tempo, me ne dai una? No, ma non... Eh, vabbè, sti cazzi Te qua, te, pigliatala da terra Prendene una, dai Pigliatala da terra Donna, quanto è moci L'ho detto che non siamo da niente, ragazzi Eh, cioè, se mi fai finire C'ho 6.000 nell'MC da usare Vabbè, li usarò più avanti Vai Ci sono? Allora, qua dentro mettiamo Allora, ogni quattro Per cui facciamo Alcuna zonata Zonato Allora, ogni quattro è un ferro Per cui quattro 8-12 Quattro Redstone, tre ferri Bam Vediamo quanti Alloy, Red, Bugs, Ball E Lide vengono Nel frattempomente Sì Possiamo fare un'altra cosa Io mi posso fare i coloranti verdi Che come li faccio? Ecco, il colorante verde Eh, c'è un cattus Eccoli qua Ecco, dentro il fornace Eh, bam Dentro il fornace La prima fornace, lui Quanti sono? Eh, tre Che me ne faccio i tre? E dammene uno che lo copio Dammene uno Che ne faccio io Grazie Ok, 34 Però se me lo dai Te lo riprendi Sei stronzo Vai Ne sono venuti tre giusti giusti Guardate Eh, che culo Grande Ora, con tre di questi Venite Sì Andiamo a fare La redstone Bam Eccola qua Andiamo Epo, serve una spinta? Eh, no, no, no Oggi ho finito le creale Però mi servono i tubi d'oro Eh, ti posso dare il cacao Tu mi d'oro Sai il cacao Non mi fa di niente Ah, giusto per dire Allora, il cacao che c'è nell'inventario Non fatemelo dire Se no poi L'ho messi tutti L'ho preso Dal mob spawner di due video fa Io l'ho detto Sti cazzi 15 Fatto Il vetro Qua Il vetro ce l'abbiamo Sì Bam 48 56 56 Ne facciamo un po' così Bam Ok Sperando di qua Che bastino Andiamo Venite Vai usci Te sto dietro Sto correndo E c'ho la colite Scusate Venite Vai usci Sto correndo Vengo Allora Il secondo è messo male Io non lo volevo Anche il primo Anche il secondo adesso Diciamo che Dovete stare fermi Devi stare molto fermi Ma ce l'hai solo tu La Runch Diciamo Ma ce l'ha solo lui E si lamenta Appunto Hai fatto? Che tutto lui sta facendo Ok Perché abbiamo un verme lungo per terra? Guardate Bam Oh Si è illuminato il vero Ora C'è qualcosa che non va Ma perché? Questo è così Ma non è così Così è giusto Ma Lu Lo devi girare Si Ok 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 Ora qua dietro Gli andiamo a mettere I liquidax Ok Bam 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 Perché? Perché? Gli andiamo a portare Il liquido giallo Ah il liquido giallo Ok Ora il problema è Dove glielo facciamo passare? Eh Perché il liquido giallo è qua Eccolo qui Bam Da qua Che esce Logicamente Sì Mettiamo il liquido giallo che esce Per cui così Due di legno E due di questi Ti serve un redstone jain Bam Ma Io ce l'ho il redstone jain Uno e uno due Uno e l'altro? Due ne sei Eh io uno Te ne posso dare tesoro Vabbè le vado a fare Ma Se si porta la col teleport pipe Bravo Possiamo fare la col teleport pipe Ce l'ho io Eh Sono Non sono Un genio del crimine Ma serve lo stesso Non volevo farlo Il tempo Perché poi Non stai Abbiamo troppi numeri L'ho capito Perché non lo Allora Uno due Eh vedi Devo craftarne altre Anche Vabbè Per il momento Vi facciamo diventare Logicamente liquide Bam Allora Allora Ragioniamo Ma se lo metti in mezzo Non funziona? Eh sì che funziona E mettilo uno in mezzo Che è ciocciata tutte e due No giusti giusti No giusti giusti Non hai capito No cazzo proprio Devo craftarne altre Che io li finisco Togliti Bam Bam Ok No va bene Ora qua li mettiamo La frequenza Quella che ti parla Pepo Dieci Gli mettiamo la frequenza Due Pepo No la due mi pare che l'hai già usata Tre 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 Perché è Pepo? Perché mi dà Pepo? Ah ok Gli mettiamo la frequenza Tre Vedete allora Se io mettessi la frequenza una Mi dà Connected pipes Uno Perché è quella del petrolio Ti ricordate? Sì infatti Con la frequenza due Mi dà connected pipes tre Che sono quelle dell'acqua Esatto Che sono tre Uno quella in fondo Due e quella dell'acqua Se faccio la tre Mi dà connected pipes zero Ed è corretto Facciamo true Andiamo di là E le andiamo a mettere quella di ritorno Quello Gliela mettiamo qua Bam Qualcuno c'ha redstone Finita Tre Due Bam La redstone ce l'ho io Ah ok Ora sotto Possiamo anche chiudere La puoi dare per favore? Pepo tu hai altri sonnati? Eh Ne ho nati No li ho finiti Vabbè Ce l'ho fatta Mi puoi dare la redstone Un pezzettino? Ma ancora non ho fatto niente Thank you Ora Qua abbiamo la corrente che esce Wow Figo Figa Bella Qua abbiamo la corrente che esce Guardate Facciamo così E dovrei fare appunto Altri teleport Perché qua poi mettiamo il teleport di corrente Ah ok Ah che figo E questa è un blocco di motori Controlliamo sempre l'acqua Mi raccomando Vabbè L'acqua deve essere sempre piena No perché poi più avanti Se c'è la mod Metteremo Faremo l'impianto D'allarme Quando sta per scoppiare Mettiamo il coso che suona Bellissimo Bellissimo Bella 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 idea Bravissima Allora Ecco qua Redstone Hai messo uno Invece di tre Adesso controllo Vabbè dammi Tieni Vai Mi servono Delle leve Ti faccio subito Ce li ho Già fatta io Ce li ho Vabbè io l'ho fatto Pure io Dem Dem Vai Vada 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 Poi non dite che C'è un pisellino in mano Mantata Allora Abbiamo detto Qua Sì Tre Ho messo tre Frequenza tre Eh sì ma se non attivi No Mi stanno dicendo Come è sto Frequenza uno No Frequenza tre Ma se non metti Se non metti Così Non esce mai Qua Ti mettiamo una bella leva Bam Qua Esatto Tancete Eh Ho fatto la cagata Perché hai fatto Adesso è un blocco più sopra Ho fatto la cagata Ho fatto Era qui Era Bam Allora Barusha Che bello così Così Eh Dai Ci sta E così Bam Lì in mezzo Mi mettevano la leva Bam Bam Vediamo se funziona Dai speriamo dai Funziona Vediamo se va Eh va di là E se arriva Eccolo Arriva 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 la pipì Logicamente ho sbagliato Perché Gli lo mettiamo al centro In modo che si suddivide Perché se no qui Si rimetterebbe sempre il primo Ah ok Bam Gli mettiamo la frequenza uno La tre La tre Due Bam Ora si omogenea i lati Vedete Sì sì Se notate sta arrivando a tutti Prima arrivavano solamente i primi Lu Perché non fa più liquido Se notate guardate il primo qua come è pieno Avete visto? Già è pieno Eh per quello Invece messo al centro Si omogenea a tutti i lati Bene ragazzi I'm It's the mage E oltre a quello Abbiamo la prima corrente Che non accendiamo Perché se no la bruciamo Perché vi ricordo Che qua Se non erro Questa corrente Non abbiamo Un accumulatore di corrente Ah è vero In questo pacchetto Abbiamo le MFE Le MFSU Eccetera eccetera Yep Che però vanno con la corrente Della industrial craft La build craft Se non erro Non abbiamo un contenitore di corrente Tutta la corrente Che generiamo Dobbiamo consumarla Ah va benissimo Ora per esempio Una cosa importantissima Andiamo a craftare altri teleport Venite con me Ok sto arrivando Facciamo altri teleport Eh ma non sta facendo Comunque liquido giallo Eh infatti liquido giallo Non lo sta facendo Perché è spento il macchinario Appunto Se facciamo altri teleport Infatti Allora mi servono Porca bacca 8 diamanti 8 ori E 8 Ferri Eh La madosca 8 diamanti Ma abbiamo Un oro da cuocere Eh si Può essere Si Ci sono 4 diamanti Lo ho messo Lo ho messo a cuocere L'oro Raga 4 diamanti Ci sono Poi Io ho un diamante Se vi interessa Se vi serve 4 le abbiamo Altri 4 Ok Sta facendo Quelli in ferro 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 ce ne abbiamo Tantissimo Aspetta Aspetta Lu Ce l'ho pure io Eccolo qua Tieni Messo Eh Luke Che si impalla Ok C'è Luke Ok Fatto Vediamo l'oro Ok Ce ne ha fatti tre Andiamo a dormire intanto Sì Devi stare Molto calmo Io mi sto Buonanotte Salve Sei brutto Ah non sa me Per Uno Guarda un po' se si può Veramente Avevamo un maceratore Una volta Eh si Lullu Ma l'abbiamo ancora Una volta Ah già è vero Il 1406 Scusami Scusami Ti ho chiamato in vano Ma ti chiamavo il maceratore Abbiamo creato il 1406 E il 1406 è morto Ci hanno avuto una vita lunga Dai che è Pasqua però Dai Allora Allora Avrà un degno successo Tanto non bastano comunque Eppure Eh Ma porca cacatogna Ma mi dite che vi serve Faccio 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 Bam Bam Fatto Venite Aspetta gli insegno l'oro Oh Cretti Questo qua è l'oro Venite Allora Li facciamo diventare di diamante Sì Ti bastano i diamanti Sì Guarda Due te ne servono lui No Bam Con due ci fai un tubo Stai taci Bam bam Così ne fai due 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 Vetro 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 Eccolo qua Metti Ne vengono 16 Ecco qua Otto Chi li ha presi? Nessuno Chi li ha presi? Dammi dai Dammi lì Dammi lì Tutta roba mia Tutti 16 le hai presi? Eh no Ne ho presi 6 e 16 Ora Ne faccio diventare Due Di corrente Venite Vai Arriviamo Se notate Guardate Cioè così che quello base Così che quello di corrente Non lo raccoglierò Ma Chip Ma ti fai i cazzi tuoi? Si nota Cioè quello rosso Questo è quello base Ok Questo è quello base Con la corrente Sì E questo è quello base Waterproof e di liquidi Ok Ah ok Ha raccolti tutti Imparato Venite Allora Aspetta Intanto gli mettiamo l'uscita di corrente Visto che la prima Li metteremo la 1 Ok Bam Li mettiamo la 1 Quella base serve per gli items Ok Ve l'ho intratto di dirvelo Ma perché la stai mettendo là sopra nel tetto? Qua di oggi te fa schifo Ma che cazzo? Ecco Ha bugato il mondo ragazzi Pepo ha bugato il mondo Come ha bugato il mondo? Guardami Ok ragazzi Dopo il disguiciocio E la sgridata a Pepo Bravo Pepo eh Che non si mette mai le mani in quel posto Allora Che avevo fatto? Hai messo il teleport sopra Siccome era il primo Dovevi mettere il numero 1 In qualche parola ragazzi Che succede? Se vi ricordate la mia vecchia serie Che era la La Technipack 1.6 Se vi ricordate Erano già bugate sti cosi E soprattutto in multiplayer Se notate Owner Luke4316 Se io ho questa interfaccia aperta E o Chip o Pepo Qualsiasi altra persona Mi togli i tubi Va in crash Crash a tutto Ok Che cazzo ne sa lui tanto Allora Ora qua è dove Manderà la corrente Per cui Mettiamo false Per adesso No mettiamo true Che false Tua sorella true False True Pepo Pepo Venite qua Ora Questo qua Dobbiamo fargli arrivare La corrente Da sotto Andiamo sotto Se vi ricordate C'erano gli engine Che non serviranno più Ma li manderemo La corrente Allora Gli mettiamo Dei tubi Di corrente Ce l'hai? Io c'ho quattro di questi Ma Allora E uno due Ok E gli mettiamo Il nostro bel amico Teleport Bam Gli mettiamo La frequenza uno True Dovrebbe arrivare Doveste vedere una linea All'interno Azzurra Quando parte Però siccome non è partito Logicamente Naturalmente Non la vedremo Ora Possiamo attivare Però Attenzione 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 Perché Perché Far andare Cinque motori Per un cacchetto E' sprecato Vero Bravo Ne faremo andare Solamente due Per cui facciamo così Anzi Solo uno Uno Ne basta uno Basta e avanza Togliamo la redstone qui Anzi possiamo anche lasciarla Volendo E lasciamo lì Quello lì Ok Ok Proviamo Posso attivarla Posso attivarla Non l'ho attivata Guardate la linea blu Ecco Vediamo se arriva Vai Vediamo Ecco l'è partito Oh Gigi Ragazzi Ragazzi Un gigine sotto nei commenti Ragazzi Mi raccomando Gigi Funziona Gigi 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 Dove cazzo Sei finito Ma infatti Dove cazzo Sei finito Ok Che possiamo fare Possiamo fare il query Ma abbiamo finito I diamanti I diamanti Dovremmo fare un'altra Sessione miniera Ragazzi C'è da fare il secondo Blocco di motori Oh porca Cotoli Dobbiamo fare la stanza Identicamente identica Però ragazzi dai A meno questa Ve la faremo a telecamera Spente Così non vi asciughiamo L'anima Tanto l'avete già vista Guardatela Per l'ennesima volta Questa stanza Che state guardando In questo momento La ripeteremo Identicamente Dall'altra parte Esatto E avremo il secondo Blocco di motori Ah bene ragazzi Che giustamente Chiameremo Per non fare Case confusioni A e B Blocco A e blocco B Ah ma ce li ho fatto Io lo volevo chiamare Blocco motori Quelli che funzionano E blocco motori Quelli che non funzionano Cioè La ricostruzione Esatto Oppure Il blocco Dei primi motori Che abbiamo fatto E il blocco Dei secondo motori Che abbiamo fatto No mi sento a posto Peppo Nel frattempo Non sta craftare Una cosa Oh i stick Ti ho dimenticato Di stick Allora Blocco A I cartelli Vediamo come lo scrive No Gruppo A Eh No blocco Blocco fa più Blocco fa da centrale Blocco A Blocco B B E blocco B Provelo che sto guardando Quale Allora La ho sbagliato Una cosetta Che cosa Voglio farlo figo Qui Mi togliete Niente Cosa Dimmi dimmi Allora qua Intanto facciamo così E gli metto questo qua Perché voglio fare Una cosa figa Ah Le vuoi far passare Ma questa redstone È sempre la cosa che A 15 Si Stai sotto No Non mi ricordo Non dovrebbero Sai Non lo so Dai che figata Ho capito Lo vuoi accendere Dall'entrata Effettivamente Dovevo fare Altra redstone Ragazzi Allora così Quattro ferri No Quattro redstone Un ferro Si Per cui 12 E 3 Allora Redstone sta dentro Ce l'ho io Ce l'ho io Ah ok 12 redstone E 3 ferri Che non ho Ferri Ferri ce l'ho io Quanti 3 1 2 3 Ok Ottimo Per cui Facciamo un'altra redstone E facciamo qua Allora un cartello Ce l'ho io Hai il cartello Si Tieni Crovuto Dai Te li crafto Vieni qui Ragazzi Te li crafto io Vai Blocco A Così Accendiamo E spegniamo i motori Da qua Ah Perfetto Figo Come dicevo E Te ne serve un altro Però Che poi volendo Per adesso Che siamo a corto I materiali Se no invece di mettere Tutto con la redstone Potevamo fare i cosi Il Perché dovremmo avere La mod Della Wireless Wireless Nice Ce l'abbiamo Wireless Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ah eccola Fantastico Andiamo Oddio Riusci a evitare wireless Eh si Che figata Vedete se funziona Vai Vai Tiro la leva Vai Che devo vedere dove è Attivata Dovrei Eh Ok ecco Bravo Perfetto Perfetto Eccolo qua Partito 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 A posto Ah Vai Che è sto rumore La porta che si apre Ma chi porta Tutti quelli portano Ma guarda Ragazzi Dai E' la botola Ecco E' così Era Era la botola Oddio Logicamente Potremmo addirittura Fare una bella cosa Cosa In alto al cielo Abbiamo delle lamp Scrivete lamp Vorrei fare Una bella lampada rossa E metterla Vedete com'è Qua fuori La in alto Sì In modo che sappiamo Da lontano Quando i blocchi Sono accesi O spenti Uh Eh vabbè Beh Ci starebbe No Non ce le salutite Andiamo a dormire Ci starebbe Ci starebbe Ci sta Viene No Viene una figata Di che altro Capisci Quando il tutto In funziona O meno Bravo Facciamo una verde E una Figata Verde quando sono Non accese Vai Allora Ragazzi Che possiamo fare ancora A parte bisogna fare Il blocco B Sì Bisogna fare il blocco B Bli Sì Bli Che Dovremmo usare per forza La wireless Ok Eh Io direi che dal prossimo episodio Poi possiamo dedicarci Sapete che Una cosa Come si chiamava la cosa Ah Non mi ricordo il nome Devo cercarlo Cosa Quello della mini block Quello che taglia La sega La sega Eh Quella che si voleva fare chip Nello scorso episodio Porca bacca Aiutatemi Eh Aspetta Aspetta Però mi ricordo Trovata No Trovata Allora Tre bastoncini Due diamanti e due ferri Unite con me Ok Unite con me Ma vabbè Io ti seguo Ah Non ho ferro Eh ce l'ho io Ce l'ho io il ferro Lanza Vieni Vieni Ce l'ho Ce l'ho Allora qua Tre bastoncini Eh Ecco Guardate Cosa faccio No Non mi dica Fai i pannelli Ragazzi Guardate Qui che sega Ah no Che pirla Non vengono Come no Perché C'è Sono venuti Ma non riesco a chiudere Sono pirla Come faccio a chiudere C'è la redderson Ma non c'è Cosa con il buco Eh La divide però Vabbè sti cazzi Eh sì Come si accende Pirla Pirla come si accende È già acceso Sì Per pezzo No la divide vedi Non prende Non prende No leva Eh leva La lascia il buco Eh ormai sì Lascia il buco dai Ti togli faccio Ok Però posso fare così Eh Eh È fine Sì Hai fatto il tavolino È un buco invisibile No è figata Bello Ci sta ci sta Ci sta Ci sta Ci sta A posto Ragazzi E anche per oggi È tutto Abbiamo fatto un sacco di roba ragazzi Luca La nostra prima corrente Dimmi Mettilo Mettilo qua Pure a destra Appizzalo qua Da questo lato Eh Così fai il cuniculo Appizzalo di qua Ma io se lo metto sotto No 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 Posso farlo? Posso provare? Che cosa? Oh E mettilo sopra Eh mettilo a destra Mettilo a destra Mettilo sopra Mettilo sopra Non va più Non va più A destra A destra Orca cotogna A destra cosa Pepo? Eh Qua Appizzalo No No all'interno però All'interno All'interno A me piace che si vede È una centrale A posto Io volevo che lo mettevi solo qua a destra Per tappare il cuniculo Fa figo A destra? Eh sì Sull'altro blocco In modo che il cuniculo si restringe Viene fico Come sull'altro blocco? Passa 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 Fai vedere se si può fare Guarda qua Io dicevo qua Lo metti qua Guarda qua Ti restringe Ragazzi un bacio e un abbraccio Pollice in su Condividete e commentate E mandate a cagare No dai Che figata Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti